Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume elettronica facile, capire l'elettronica attraverso la pratica. Si tratta di un volume molto pratico che spiega bene tanti circuiti e ci avvicina al mondo dell'elettronica. L'autore è Paolo Capobussi, l'editore è Libri Sandit. Il costo del volume è di euro 12,90 euro. Buona lettura a tutti.